La seconda edizione per noi di B Italia è un'avventura, perché i ragazzi si conoscono la sera prima del debutto, quindi grazie a Mr. Pichetta e allo staff siamo sempre in grado di far bella figura, addirittura di passare il turno, che è una grandissima soddisfazione, e poi di mettere in risalto quelli che sono i talenti Under 15 del campionato di Serie B, delle nostre 22 società, della funzione importante che rivestono a livello locale e territoriale nell'andare poi a valorizzare i talenti, che come si può vedere dal confronto anche con squadre molto più blasonate, in questo caso l'Atletico Madrid, il Milan, il Werder Brema, non solo reggono il confronto, ma addirittura sanno conquistarsi, come la semifinale dell'anno scorso, anche in questa edizione, il passaggio per adesso del turno eliminatorio. Quindi grande soddisfazione e anche estrema importanza nell'andare a valorizzare i migliori talenti, in questo caso Under 15 del nostro campionato. I complimenti vanno a Marco De Marchi, a Oblivium Production, a coloro che hanno dato vita a questo torneo, che nel giro di sole due edizioni ha saputo ritagliarsi un ruolo incredibilmente importante tra i tornei Under 15, con la presenza di squadre di importanza assoluta non solo del campionato italiano, ma anche del campionato europeo e anche fuori Europa, come si dimostra quest'anno. Quindi un evento importante, organizzato molto bene, in strutture di primissimo livello, sia dal punto di vista dell'ospitalità alberghiera, sia dal punto di vista dei campi. e quindi grande merito a questa organizzazione che nel giro di pochissimo tempo ha reso questo torneo uno degli appuntamenti più importanti della categoria.